Lungo le vie di Alcamo oggi un carro allegorico in onore di San Francesco di Paola, il corteo ha dovuto temporaneamente fermarsi, c'è qualche problema per quanto riguarda il traffico veicolare, auto, vetture imbottigliate, comunque situazioni queste che ogni tanto si riscontrano. Si tratta di un gruppo foccoristico proveniente da Trapani, osserviamo intanto che situazione caotica per quanto riguarda il traffico cittadino, auto, vetture che sono state temporaneamente costrette a percorrere vie alternative. Che cosa lanciate? Che cosa lanciate? Ah, vediamo da vicino? Che cosa lanciate? Ah, ecco qua.